rasberry p con questo articolo si è giudicato un voto finale di 9.4 su 10 risulta essere il migliore di questa selezione questi sono i suoi punti di forza durabilità facile da montare versatilità controllo remoto ottimo rapporto qualità prezzo in basso nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto questo prodotto realizzato da rasberry p ha conquistato una votazione di 9.4 su 10 punti totali al momento risulta essere il più regalato viene molto apprezzato per queste caratteristiche controllo remoto versatilità stile ottimo rapporto qualità prezzo puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video questo articolo di melo pero ha riscontrato una valutazione di 9.2 su 10 totali in questa selezione è il più economico le sue qualità sono controllo remoto versatilità ottimo rapporto qualità prezzo se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video la valutazione di questo prodotto di rasberry p e di 9.4 voti su 10 risulta al momento essere il più desiderato i suoi pregi sono stabilità versatilità controllo remoto ottimo rapporto qualità prezzo facile da installare se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.